allora adesso abbiamo la nostra jessica che apre il microfono ciao ciao jessica ciao jessica e grazie di essere qui allora voglio chiederti proprio anche a te cosa ci puoi dire a livello della tua trasformazione un piccolo e un grande risultato che raggiunto nel tuo percorso allora il mio percorso con patrizia è cominciato all'incirca un anno e mezzo fa e visto che ne parlavamo prima avevo già intenzione di condividere proprio questa cosa e quindi il tempo io avevo un grandissimo problema col tempo e voi direte ma vabbè sempre così giovane si infatti è il problema che il mio problema col tempo è cominciato quando avevo nove anni e quindi esattamente l'ultimo giorno della scuola elementare io mi sono sentita vecchia cioè mi sono proprio detta ok oggi la mia vita è finita perché da oggi iniziano le responsabilità e io da quel giorno ho cominciato a morire piano piano e ho sempre avuto paura del tempo quindi ogni momento che passava secondo me era proprio era perso io andavo in panico tant'è che non riuscivo a godermi nulla della vita perché ogni momento bello anche i momenti belli e non riuscivo a goderne la bellezza e la gioia perché pensavo quando sarebbero finiti e quindi in questo modo ovviamente la vita era era terribile quando ho conosciuto patrizia è proprio una delle prime cose su cui ho lavorato e ho capito cioè ho capito proprio che così non poteva funzionare e ho capito che doveva essere completamente diverso l'approccio e quindi ho proprio cominciato a vivere giorno per giorno che sembra una cavolata ma è davvero una svolta ho capito l'importanza di non guardare avanti certo uno deve avere dei progetti deve avere degli obiettivi ma di non perdersi nell'angoscia di quello che sarà e di quello che farò domani e di quando arriva questa cosa bella che aspetto e ho capito che non potevo vivere con l'aspettare qualcosa di bello che sarebbe arrivato perché nel momento in cui arrivava non tanto non me lo sarei goduta e quindi ho imparato a ho imparato a vivere il presente e a godere delle piccole cose quello che succede ogni giorno ogni mio piccolo traguardo è diventato motivo di gioia per me e in questo modo è davvero cambiato tanto e questo possiamo dire che io mi ero addirittura dimenticata che questo era il mio problema mi è venuto in mente in realtà un po in questi giorni ma l'avevo dimenticato perché ha proprio cambiato totalmente il mio modo di vivere un'altra cosa di cui mi ero dimenticata che magari per qualcuno potrebbe sembrare una piccola cosa ma per me era molto grande era il problema che avevo coi brufoli e quindi voi ora mi vedete così ma io fino a cinque mesi fa ero piena di brufoli e lo sono stata da sempre da quando ero ragazzina ho sempre avuto questo problema io ho 25 anni e comunque questo problema non mi lasciava andare e per me era alquanto disturbante questa questa cosa io non riuscivo a guardare in faccia le persone perché mi vergognavo e speravo che non guardandole in faccia io non mi guardassero in faccia loro e questo ovviamente capite che alla lunga poteva essere un problema e in che modo io ho superato questa cosa piano piano accettandola in realtà era un percorso che io avevo cominciato prima ormai da due anni e con patrizia divine connection ci ho dato un bel colpo ho imparato a conviverci ad accettarli io prima non uscivo neanche per buttare il patume senza truccarmi ho imparato a non truccarmi più e a farmi vedere dalla gente esattamente così come ero vergognandomi un casino e pian piano questi sono andati via ed è stato un processo di amore nei miei confronti io non mi piacevo ero brutta ero grassa ero sempre così e ero brutta ero grassa avevo i brufoli e non mi piacevo per niente quindi ho cominciato questo percorso di amore verso me stessa dove ho imparato ad amare prima di tutto quello che non mi piaceva ho avuto un compagno che ho incontrato ormai un anno fa che da questo punto di vista mi ha aiutato tanto a salvarmi la vita perché un piccolo aneddoto lui proprio mi baciava questi brufoli per farmi capire che lui neanche li vedeva quindi ho avuto anche una mano ovviamente come tutti però ho proprio capito che se c'è una cosa che non ti piace è proprio quella cosa che devi farti piacere e avevo anche di problemi con il cibo non sono mai stata anorestica non ho mai vomitato anzi era un problema per me proprio non riuscivo a vomitare questo è un altro capitolo e però ora ho fatto pace anche con il cibo quindi mangio addirittura di più di prima e sono anche un pochino più asciutta di prima quindi per farvi capire come possono cambiare le cose ne avrei da raccontare veramente infinite direi che questo sono le due cose di quindi l'amore verso me stessa vorrei potrei concludere così l'amore verso me stessa in realtà ha permesso a me di amare gli altri e di accettare l'amore degli altri io ho avuto sempre dei compagni fin da quando ero abbastanza piccolina ma non io non li amavo e mi mi chiudevo anche un po all'amore sia delle persone che mi stavano vicino che in generale di tutti e imparando prima di tutto amare me sono riuscita a trovare una persona che amo davvero tanto e ad accogliere il suo amore e così come ad accogliere di più anche l'amore che delle persone che mi stanno vicine e sono riuscita anche a a dimostrarlo io a me e agli altri e questo ha cambiato davvero tanto e penso che le persone che mi conoscono mi hanno potuto vedere cambiare in tutto questo periodo se ne possono accorgere e l'importante in realtà è che me ne accorga io e io da quando ho conosciuto patrizia la mia vita è capopo cambiata ho smesso di fare la brava bambina un'altra cosa interessante che io avevo tantissime maschere perché avevo il complesso della perfezione pochino ce l'ho ancora avevo il complesso della perfezione e volevo piacere a tutti e non si può piacere a tutti come ci dice sempre patrizia e quindi io seconda di chi avevo davanti indossavo una maschera perché ero convinta che quella persona piacesse alla persona che avevo davanti quindi ogni volta personificavo sempre delle persone diverse e ho capito che così non andavo da nessuna parte facevo una politica immensa e non piaceva nessuno e quindi ho cominciato a dire aspettate fatemi essere la jessica e quindi ho cominciato a essere la jessica e quello che non ho scoperto così e anche con le persone dei miei amici che proprio con lo spirituale ma anche no cioè zero di zero e io ho cominciato a parlare apertamente di tutte le cose che parlo magari con le persone del gruppo del gruppo di sostegno che abbiamo e a raccontare le mie cose anche dei dettagli sì boh a volte mi guardavano un po male ma in realtà non mi hanno mai rifiutata cioè adesso mi dicono ah sì ma è vero che tu sei un po così vabbè ma a me mi va benissimo essere un po così anzi cioè mi piace da morire cioè a me piace che io sono quella un po così e in realtà comunque poi ti vengono a chiedere non si scandalizzano è questo il bello cominciato a parlare alle persone che io sto scrivendo un libro sul nuovo mondo e cose che prima se ci pensavo ma io ma aspetta che sto zitta non dico a nessuno perché mi prendono per pazza questo sto scrivendo un libro sul nuovo mondo ho cominciato a dirlo alle persone che io tanto per capirci dico normali no magari che non hanno assolutamente questo tipo di apertura e tutte ma che figata dai davvero ma non vedo l'ora di leggerlo e io le prime volte ci rimanevo stupiti ma veramente non mi stai prendendo in giro cioè e quindi ho cominciato a fare i miei trattamenti alle mie amiche che non non sono assolutamente nel mondo e tutte sono veramente colpite stupite e piacevolmente sorprese e quindi ribadisco di nuovo che essere così non allontana ma semmai avvicina e se qualcuno dovesse allontanarsi meglio perché comunque vuol dire che quella persona non fa per te non è in grado di capirti ma non perché è cattiva poverina perché magari non è pronta e va bene va tutto bene però non è un problema e anzi essere quello che sei rende libero te e permette agli altri di davvero di volerti bene di volerti bene per quello che sei e ti vogliono più bene ti vogliono più bene così ti ti accolgono di più wow jessica non ti faccio più altre domande spettacolo intanto sono fioccate jessica sei bellissima fuori e dentro sei meravigliosa ti amo che bella che sei jessica grazie jessica che essere meravigliosa cioè qui è una schiera di fan incredibili e non vi ha raccontato praticamente niente non pensavo ti sarei simile a parlare di questo ma va bene va benissimo quello che hai detto ma è stupendo è stupendo va benissimo così anzi magari hai dato una mano anche a qualcuno sono sicura che tu hai aiutato qualcuno c'è anche una testimonianza guarda qui cosa scrive renata una testimonianza di grande supporto complimenti alla tua giovane età stai prendendo in mano la tua crescita sta prendendo in mano ma voi non sapete cosa sta combinando jessica vi ha detto tanto così di quello che sta facendo jessica anche mio figlio all'acne non hai preso nessuna medicina per il problema ti intervistano anche no non ha preso medicina jessica ha fatto un gran lavoro su di sé si possono fare veramente tante tante cose e diciamo che voi in genere siete più bravi di me perché comunque riuscite ad utilizzare gli strumenti di cui sono portatrice in modi che io non avevo neanche immaginato e poi ottenete qualcosa certo certo a chi deciderà oggi o in futuro di fare un lavoro con patrizia fate il più possibile quello che lei vi dice di fare perché davvero io sempre fatto tutto ho sempre fatto tutto e anche di più e però davvero sono le cose che cambiano che cambiano io abbiamo fatto i lavori con l'anima diamante di settimana in settimana era all'inizio per tre mesi non mi ricordo anche più e tutte le settimane c'erano dei compiti sempre diversi ma pratici e cioè delle cose toste di settimana in settimana si cambia c'è proprio da così a così quindi sfruttate queste occasioni perché non ve li ridarà mai nessuno e davvero può soltanto essere qualcosa di utile per voi no grazie tesoro guarda penso che quello che tu hai detto sia stato veramente d'aiuto a tante persone grazie di cuore jessica per la tua testimonianza e perché ti sei messa in gioco così da beh a jessica sono capitate a jessica e anche a edy e noi anche agli anni sono capitate delle cose veramente interessanti da fare guardate agli anni anche se la ride anche qua delle cose da fare veramente veramente toste il problema è che quando noi ci rifiutiamo adesso magari in questo caso sono stata io la portatrice non l'inventrice di questi atti magici da fare eh ma la portatrice perché glieli ho suggeriti glieli ho suggeriti ma il fatto è che quando la vita ti pone di fronte a un ostacolo un obiettivo o qualcosa da fare che è sfidante tu non lo sai perché devi fare quella roba lì ma la vita lo sa e guarda caso la vita ha ragione perché da un atto da un atto da da un'azione da un da un gioco tra virgolette molto semplice poi vengono fuori dei doni immensi e e jessica è stata molto brava nel cogliere tutti questi doni anzi ne ha visti più di me quindi ha fatto un lavoro veramente megagalattico grazie ancora jessica grazie a tutti